La puntata odierna di Uomini e Donne si apre con un momento emozionante, quando Maria De Filippi accoglie Gemma Galgani in studio. La dama torinese ha recentemente avuto una cena romantica con Fabio, suscitando grande interesse tra il pubblico. Gemma appare felice e coinvolta nella conoscenza con Fabio, tanto da ballare appassionatamente. Marcello e Giada raccontano la loro relazione in evoluzione, con Marcello che si mostra cauto nel prendere decisioni importanti. Alessio e Prasanna affrontano attrazione e sospetti, con Maria De Filippi che cerca di far riflettere Alessio sulla mancanza di attrazione da parte di Prasanna. La situazione si complica quando Prasanna riceve l'attenzione di un nuovo corteggiatore, William. Il trono di Martina de Ioannon è pieno di colpi di scena, con Gianmarco che esprime il suo disappunto per la mancanza di attenzione da parte della tronista. Ciro sembra guadagnare terreno e Maria De Filippi organizza un piano per creare tensione tra i corteggiatori, portando Gianmarco a lasciare lo studio. Martina si trova a dover affrontare le conseguenze delle sue scelte. Questo episodio mette in evidenza le dinamiche complesse e le emozioni forti che caratterizzano uomini e donne, un programma che continua a catturare l'attenzione del pubblico, con storie avvincenti e relazioni in continua evoluzione.